Vicepresidente Monti, appena terminata l'audizione con i rappresentanti di RFI, oltre a mettere in luce le cause di un incidente venuto sulla linea Treviglio-Cremona nelle settimane scorse, si doveva parlare anche di investimenti e anche della situazione dei binari. Cosa è emerso? È stata un'audizione, oserei dire, imbarazzante quella che è andata in scena oggi. Al di là del scampato incidente che si citava prima, scampato grazie solo all'abilità di un macchinista, noi chiedevamo qui a RFI di dirci tempi certi sul piano investimenti di 14 miliardi e soprattutto capire cosa intendesse fare rispetto alle performance che ha la rete di RFI in Lombardia che causa circa l'80% dei ritardi e delle soppressioni che patiscono ogni giorno i pendolari lombardi. Non abbiamo avuto praticamente nessuna risposta se non una relazione fumosa, devo dire anche abbastanza scarna, priva completamente di dati certi e scientifici. Sulle soppressioni c'è stato un rimbalzo di responsabilità con Trenord e per questo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non è escluso che chiederemo di integrare nell'incontro quadrimestrale che abbiamo con Trenord anche i vertici di RFI, così che tutti gli operatori possano mettere le carte sul tavolo e di certo non continuare a ingannare i nostri pendolari. E poi lui si è detto disponibile ad approfondimenti anche in base alla tavola sinottica che ha detto è stata presentata in precedenza. Ma nessuno mette in dubbio la cortesia e anche la simpatia e disponibilità personale, dopodiché noi qui stiamo a valutare i fatti, i numeri e i fatti e i numeri oggi non ci sono stati. Dal mio punto di vista è una presa in giro.